Prego, prima i bambini, sono arrivati tutti e tre a pari, sono Rossi Paolo con 4 punti, 4 punti, 4 punti, 4 punti, 4 punti, c'è la coppa genitori, no è l'altra credo, guarda è l'altra credo, c'è scritto genitori, tu sei genitori, ma questa sarà una coppa itinerante, ci sentiamo la sera, dalla lui, ma la lui, non la muoio, non la muoio, non la muoio, non la muoio, ok, al contrario, non siamo abituati, non la muoio, ok, sono per loro, secondo e terro, va bene, grazie, bravissimo, bravissimo, Grazie, fate la sorte, fate la sorte, il prossimo torneo, la rimettiamo in bagno, c'è il primo classificato, Anderotto, ma scusa Gianluca, proprio gli altri d'interno sono della ricordata, no, grazie, niente, va bene, va bene, classifica completa, va bene, allora, completa la classifica della complimentata che abbiamo visto, quarto posto, Favall, ecco, mira bene, poi, tre cozzi Francesco, un punto, e la vena in più, buona, e la vena in più, buona, 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 bu Primo classificato, Under 10, Bertucci Tommaso. Terzo classificato assoluto, Servan Sara. Che oggi era proprio in giornata. Poi abbiamo un secondo classificato assoluto con 4 punti e mezzo, Giovanni Begliato. E vince il torneo di oggi, come outsider, mai successo prima. Ecco la classifica completa. A 45esimo posto. Partiamo dal 1, 2, 3, 4, 5. Segue a 3 punti Rossi Gabriele al sesto posto. Locatelli Filippo al 7 con 3 punti. Farinetto Luca Pasinetto con 3 punti. Marco Tonuti 2,5, Salvioni Augusto 2 e Matteo Nobili 1. Io non mi ho letto perché è la prima volta che mi rivedete. E dove hai letto la prima volta? Protesto. Vabbè, protesto ufficialmente. Ok, il prossimo incontro è il 29 gennaio. Grazie a voi. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.